Il meccanismo di qualificazione alle Olimpiadi, previsto dalla nostra Federazione Italiana di Judo, comporta la partecipazione a numerosissime gare internazionali, spesso intercontinentali, le cui trasferte comportano dei costi gravosissimi che non sono più sostenibili dall'associazione. Nessuno sport nella storia dello sport del Molise, nella nostra regione, ha mai avuto l'onore di vedere un proprio atleta candidato alle Olimpiadi. Noi attraverso il Judo di livello mondiale della nostra Maria Centracchio abbiamo questa possibilità. Non dobbiamo lasciarcela sfuggire per motivi finanziari. Purtroppo i costi delle trasferte da sostenere per la qualificazione alle Olimpiadi sono gravosissimi e non sono più sostenibili dall'associazione CST né dalla famiglia della Maria Centracchio. Per questo chiediamo un piccolo contributo volontario a ciascuno di voi, a chiunque, privati, società, vogliano contribuire e avere la speranza di vedere un proprio atleta, un atleta molisano alle Olimpiadi, attraverso un piccolo versamento che potete effettuare sul conto corrente dell'associazione che potete trovare appunto sul sito dell'associazione Champions Sport Team di Isernia.